Come ultimo esempio in questa introduzione alla programmazione logica il professor Bratco ci propone la soluzione di un cruciverba anche questa soluzione che stiamo per vedere non è molto elegante però è estremamente efficace in pratica tutti sappiamo cosa è un cruciverba qui vediamo rappresentato un micro cruciverba composto da 1, 2, 3 e 4 parole due orizzontali, due verticali dove le variabili che vediamo qui x1, x2, x3 stanno a rappresentare lettere dell'alfabeto e il fatto che siano in posizione contigua vuol dire che fanno parte di una parola in questo caso qui abbiamo una parola di 5 lettere orizzontali qui abbiamo una parola di 4, x3, x6, x9, x12 una parola di 4 lettere verticale e così via laddove non c'è la variabile significa che abbiamo una casella nera questo è il senso di questa rappresentazione grafica che stiamo vedendo qui allora come si può risolvere? risolvere ovviamente dobbiamo avere un database di fatti che rappresentano le parole del dizionario questo è ovvio in qualunque problema di risoluzione di cruciverba e qui sulla destra quindi abbiamo rappresentato questo database vedete che però la soluzione molto furba è quella di utilizzare una serie di predicati diciamo che i predicati hanno lo stesso nome ma hanno però un numero di elementi diverso il trucco consiste in questo di legare associare un predicato ad ogni parola del dizionario scomponendo quindi sostanzialmente le costanti del linguaggio saranno esattamente le lettere dell'alfabeto e dopo di che concependo tutti i predicati tanti predicati dello stesso nome word in questo caso ma con un numero di argomenti diverso e il numero di argomenti è dato dal numero di lettere che quella parola contiene quindi per esempio la parola hoses contiene uno, due, tre, quattro, cinque argomenti ciascuno dei quali è una lettera dell'alfabeto e anche la posizione di questa lettera all'interno del predicato è significativa perché rappresenterebbero le posizioni che ciascuna lettera occupano all'interno della parola stessa snail, hern, same, run, yes, no e così via beh è abbastanza chiaro dopodiché il programma consisterà semplicemente in questo, trovare una relazione soluzione che coinvolge tutte le lettere che fanno parte del cruciverba dove qui le lettere sono rappresentate con delle variabili perché poi queste variabili dovranno mappare su delle lettere vere e proprie cioè le costanti che rappresentano queste lettere ebbene, dicevo il predicato sarà composto da una sola clausola non ricorsiva come certamente abbiamo visto nell'esempio precedente della colorazione della mappa quindi davvero questa è una soluzione estremamente efficace anche se, ripeto, probabilmente non possiamo dire che sia molto elegante perché questa è una soluzione che ovviamente specifica per questo esempio che vediamo qui a fianco un predicato che è tagliato per risolvere esattamente questo puzzle questo cruciverba e non altri comunque sia ecco cosa la soluzione proposta è questa qui dire che fra x1, x2, x3 e x12 esiste una certa relazione che è quella di essere la soluzione del cruciverba se x1, x2, x3, x4, x5 sono parte di una parola x3, x6, x9, x16, x12 sono parte di una parola così anche verticale x5, x7, x11 sono parte di una parola e x8, x9, x10, x11 sono parte ancora di un'altra parola bene, allora se andiamo a compilare che cosa abbiamo? abbiamo una serie di warning che ci vengono qui presentati dall'interprete prologue che dicono ne prendiamo uno sono tutti uguali qui c'è la riga 86 questa qui sono quelle in rosso segnate c'è un predicato che è Word che ha due argomenti che non sta vicino all'altro predicato Word che ha due argomenti c'è quello che ci sta dicendo che bisognerebbe secondo lui ci sta consigliando di metterli vicini ma ovviamente metterli vicini non servirà non farà cambiare nel valore dichiarativo nel valore dichiarativo non mi ficherà sulla soluzione del problema io scusa però è una cosa che l'interprete prologue ci chiede di fare perché questo modo di lavorare ci metterebbe un pochino più al riparo il programmatore da eventuali errori perché chiaramente per per il l'interprete prologue dei predicati che pur hanno lo stesso nome ma un numero di argomenti diversi in realtà sono predicati diversi si ammette che predicati possono avere lo stesso nome e un numero diverso di argomenti ma ovviamente sono predicati diversi e rappresentano diverse relazioni nella logica allora se sono diversi perché inframmezzarli perché alternarli raccoglili tutti assieme perché questo sarà un modo per fare ordine dal punto di vista della pulizia della programmazione ma ripeto noi possiamo pure fare adesso questa cosa che ci chiede l'interprete prologue ma non non cambierà minimamente l'esito comunque della tant'è che appunto continuate se volete a farlo per conto vostro io mi fermo qui ricompiliamo di nuovo e questa volta i warning sono di meno perché abbiamo non abbiamo completato questo ordinamento ne sono rimaste qualcuno ma ci fermiamo qui adesso che abbiamo compilato lanciamo la soluzione e quindi lanciamo il goal lanciamo il goal cerchiamo la soluzione del nostro cruciverba c'era una parentesi in meno anzi no c'era non avevo fatto non avevo compilato ecco lanciamo il goal dicevo e abbiamo la soluzione x1 sarà s x2 t x3 e x4 r e x5 no x3 e x4 e e x5 r quindi la parola la prima parola orizzontale è steer la seconda parola orizzontale x8 inizia per i x9 è r e x10 è o quindi è iron la parola verticale la prima parola verticale x3 x6 x7 sarebbe e earn e l'ultima x5 x7 x11 è run bene con questo esempio si conclude il modulo il primo modulo del prologue è quello che è stato ricavato dalle slide di introduzione al corso di prologue del professor Bratko l'uomo